Ciao tifoso del Cagliari. Benvenuti di nuovo sul nostro canale e oggi abbiamo notizie che suscitano emozioni contrastanti. La prima vittoria del Cagliari nel campionato è stata incredibile, ma purtroppo la felicità è arrivata a un prezzo. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie relative al Cagliari. Andiamo direttamente alle notizie. Come riportato, la vittoria del Cagliari contro il Frosinone è stata un traguardo, ma un'ombra di tristezza si è abbattuta sulla squadra. Il talentuoso giocatore Nathan Nandez ha subito un infortunio durante la partita. Durante un'azione difensiva alla fine del primo tempo, è caduto tenendo la parte posteriore della coscia sinistra. Nelle prossime ore, esami medici dettagliati sveleranno l'esatta entità dell'infortunio. Tuttavia, la sensazione, come riportato dall'Unione Sarda, è che il recupero di Nandez potrebbe richiedere un considerevole periodo di tempo. Il giocatore ha lasciato lo stadio con una fasciatura visibile sulla lesione. L'incertezza sulla situazione di Nathan Nandez porta a una nota di preoccupazione, ma anche di determinazione per la squadra. Il recupero del giocatore e il suo ritorno in campo saranno seguiti da vicino da tutti i tifosi del Cagliari. Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti. Pensate che il Cagliari supererà questa sfida? Grazie per aver guardato e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Alla prossima!